Ciao, ti do il benvenuto sul canale, io sono Alex Recchia e oggi in questa nuova lezione ti faccio vedere tre esercizi fantastici da eseguire la mattina appena svegli. Bene, iniziamo. Primo esercizio, rilasciamo il peso a terra e estendiamo gradualmente tutta la muscolatura, dalle gambe fino al collo, su su su, sollevando, chi riesce può sollevare anche i talloni, è importante arrivato a questo punto qui rilasciare la colonna, rilasciare l'osso sacro. Inspiro, poi espirando scendo, fletto il busto a partire dalle anche e scendo gradualmente fin dove riesco, non devo sentire tirare eccessivamente dietro, poi rilascio gradualmente la zona lombare, le spalle, il collo. Arrivato a questo punto qui, estendo gradualmente la colonna, ogni singola vertebra progressivamente si estende. Vediamo l'esercizio lateralmente. Allora, arrivato a questo punto qui, iniziamo. Scarichiamo bene il peso del corpo a terra. Aprire, aprire progressivamente, estendere il corpo. È importante tirare un po' in dentro l'addome, mantenere allineata la schiena e non fare questa curva, ma mantenere la schiena completamente dritta. Estendersi quanto più possibile, mani unite, spalle indietro, rilasciare l'osso sacro in maniera da allungare la colonna. Inspiro e mi allungo. Espiro, rilascio. Inizio, inspiro, fletto nelle anche, fletto, fin dove sento che qua dietro non posso più scendere perché tira troppo. Allora, rilascio la zona lombare, rilascio le spalle, il collo, mi allungo progressivamente ed, espirando, apro bene la schiena. Faccio un movimento a onda. Bene, secondo esercizio, andiamo ad aprire il petto. Quindi, questa posizione qui, sterno in fuori, apro le spalle, apro le spalle e allungo le dita. Poi, espirando, sterno in dentro, protraggo le spalle in avanti e unisco i polsi. Aprendo bene la schiena dietro. Da questa posizione, sterno va in fuori, ma la colonna non si, la zona lombare non si deve, non dovete sentire compressione, quindi non dovete fare questo lavoro, ma portare lo sterno in fuori e poi mantenendo la colonna allineata. Quindi da qui, inspiro, scapole si uniscono tra loro, allungo bene le dita delle mani, poi, espirando, porto le spalle avanti, unisco i gomiti, apro bene la schiena. Terzo e ultimo esercizio è uno degli esercizi migliori assolutamente da fare la mattina. Da questa posizione qui mi spingo via dal pavimento, creo uno spazio qua, un vuoto, risucchio l'ombelico dentro il corpo, apro la schiena, rilascio il collo, inspiro, espirando, apro bene ogni singola vertebra, guardo su. È importante portare il collo su, aprendo la gola e non andando indietro, comprimendo le vertebre cervicali. Quindi da qui, e anche qua non eccessivamente l'alteroversione col bacino, ma estendere più che altro la colonna in questa maniera. Vi vediamo, inspiro, espiro e apro. Questi tre esercizi puoi ripeterli dalle 5 alle 10 volte in base alle tue esigenze. L'intera sequenza non ti prenderà più di 10-15 minuti al massimo. Cerca di farli inizialmente con calma e in maniera molto lenta per aprire gradualmente il corpo. Poi, magari le ultime ripetizioni le puoi fare anche in maniera un po' più veloce e un po' più fluida. Questa lezione termina qui. Se ti è stata utile, lasciami un feedback. Io ti auguro una buona pratica e come sempre ci rivediamo con i prossimi video. Ciao! 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 Ciao!